Una manifestazione importante per Modiche che entra nella programmazione di ogni anno. L'anno scorso lo start-up dell'inizio di questa manifestazione è questa associazione che vuole mettere insieme un momento di grande attenzione per la città che riguarda il mondo della sposa e tutto l'indotto, le aziende che partecipano alla realizzazione e la città che si unisce attorno a un evento importante, un evento felice di ogni vita, di ogni singolo cittadino. Accanto a questo però con grande intelligenza si vuole mettere sempre qualcosa che sia legato a sociale. Quest'anno verranno raccolti dei fondi, verranno date al Comune e poi mandate ai territori dove hanno subito il terremoto e quindi per la ricostruzione insieme a tanti altri eventi che il Comune di Modiche sta organizzando con tante altre associazioni. Ma ogni anno si vuole dare, vuole mettere accanto sia il problema legato alla promozione, legato alla produzione, legato alla ricchezza della città, a questi eventi legati a questo evento importante del matrimonio, e anche quello sociale, quindi l'amministrazione lo sostiene e invito tanti a partecipare a questo evento, non solo Modicani ma anche degli altri paesi limitrofi, perché sarà un momento importante anche per apprezzare le nostre eccellenze e i nostri commercianti veramente che ogni giorno investono su questa città, investono per la propria immagine, ma all'immagine dell'intero territorio.